Ciao a tutti, come anticipato sono Alberto Giorgi, sono coordinatore dei Giovani Badani di Centallo. Il nostro gruppo l'abbiamo fondato ad ottobre, grazie principalmente a Alberto Brignone, che si è preso la briga di seguirci la sera, darci la mano, partire, trovare i giovani per partire, perché è sempre un po' un'emozione buttarsi lì, stare sul territorio, fare il gazebo alla mattina, non sai cosa pensa la gente. Comunque da allora, ad ottobre, perché battiamo le piazze, particolarmente adesso, sono due mesi qua che siamo sempre in piazza, la Centallo, la Tinasco, Villa Falletto, comunque la gente ci sta vicina, ci dà una mano e credo proprio che Cota sarà in grado di avere una ragione, secondo me vinceremo, il Piemonte sarà nostro e sarà una strada molto più veloce per le vere riforme che secondo me partono dal territorio, non da Roma e quindi veramente siamo un passo dalla badagna, che tanto amo. grazie a tutti. grazie.